Salve, noi rappresentiamo lo stand Mr. Cinnamon, questo è un dolce tipico svedese che nasce alla cannella. È un dolce molto diffuso in America, in Svizzera, Praga e siamo il primo stand, il primo in store ad averlo portato qui in Italia. Abbiamo scelto Napoli perché è una città molto accogliente e pensiamo sia stata un'ottima occasione per far conoscere questo prodotto alle persone. Ci siamo trovate molto bene in questa fiera, abbiamo avuto modo di far conoscere questo nuovo prodotto e di aprire un po' gli orizzonti delle altre culture anche napoletane.